Il primo maggio, una festività internazionale che da oltre un secolo celebra la dignità del lavoro, i diritti dei lavoratori e le loro faticose conquiste. In Italia la ricorrenza fu istituita nel 1891, poi soppressa nel ventennio fascista e definitivamente ripristinata nel 1945. Il primo maggio sarà celebrato a Napoli con alcuni eventi pubblici in diversi punti della città. In Piazza del Gesù dalle 16 e fino a mezzanotte si esibiranno musicisti, cantanti, attori e cabarettisti in un evento organizzato da CGL, Cisle e Will col patrocinio del Comune di Napoli. Sul palco, fra gli altri, Giovanna Marini, Enzo Avitabile e i Bottari, Tony Esposito, Valentina Stella, Peppe Lanzetta, Patrizio Rispo, i Revenas Quartet, Giovanni Bloch e Ionirica. Per l'occasione saranno prolungati gli orari della metro Dante-Piscinola con ultima partenza all'1.28 da Piazza Dante e delle funicolari di Chiaia, Montesanto e Centrale che attiveranno le ultime corse alle due. Domattina alle 10 il sindaco De Magistris scoprirà a Città della Scienza una targa in memoria delle vittime sui luoghi di lavoro. A Scampia, a partire dalle 11, avrà luogo la festa del lavoro con la consegna delle stelle al merito per 66 lavoratori campani, con la presenza fra gli altri del prefetto De Martino, del sindaco e del presidente della Municipalità Pisani. A Chiaiano la festa del 1 maggio si aprirà alle 12.30 con un incontro sui beni comuni condotto da Erri De Luca. In serata è prevista una teleconferenza sui temi del lavoro cui prenderanno parte il segretario generale della FIOM Maurizio Landini e alcuni rappresentanti dei Notav di Bussoleno. Dalle 21 in poi la Rotonda Titanic ospiterà un concerto di musicisti rock, hip-hop e rap, tra i quali Ibisca, Ciccio Merolla e Lucariello. Dalla stazione di Campi Flegrei e diretto verso Bagnoli partirà alle 9 del mattino il corteo del primo maggio sfasteriato, contro il precariato del lavoro e in difesa delle fasce più deboli di lavoratori.